Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto da Rick Andiamo a vedere assieme Meta League Abbiamo incontrato il team, un team tutto italiano E abbiamo avuto accesso alla beta privata Non perdiamo altro tempo, vediamo il tutto dopo la sigla Iniziamo allora a parlare di questo gioco manageriale di calcio Play to earn naturalmente Col botto ragazzi ci sarà un giveaway, trovate il link discord in descrizione Se volete partecipare Tutti quelli che arriveranno da questo canale verranno inseriti nella white list Avrete la priorità di un giorno rispetto agli altri per mintare Questo gioco permette di gestire tattiche strategie e gestione finanziaria del proprio club E di sfidarsi con altri giocatori in un gioco multiplayer e multichain Cosa parecchio interessante ci sarà la possibilità di competere con i giocatori tra diverse blockchain Quindi una sfida nella sfida, molto carina questa idea Ora passiamo alla parte dedicata al drop Il primo drop di giocatori e club sarà su Polygon al costo di 150 Matic Dove si riceveranno 18 NFT Riguardanti naturalmente i giocatori tutti in un solo mint Quindi tutti d'un colpo Questo drop sarà il 12 marzo 2022 Dunque sabato prossimo Ricordatevelo in caso foste interessati Naturalmente come ben sapete questi non sono consigli finanziari Vi stiamo soltanto proponendo questo gioco che sembra davvero interessante Soprattutto se siete appassionati di calcio O anche solo di giochi manageriali di calcio Non è detto che vi debba piacere il calcio per forza Conosco persone alle quali non piace il calcio Ma gli piacciono questi tipi di giochi Cosa comprende il minting? Praticamente con 150 Matic si mintano 18 giocatori suddivisi per ruolo Dunque 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 3 attaccanti Più un giocatore gold idol Che naturalmente avrà un valore maggiore Il ruolo di questo giocatore gold sarà random Quindi totalmente casuale Andiamo a vedere il risultato del nostro minting Vediamo in alto a sinistra in colore viola l'idol Poi ci sono 3 rookie, 1 pro E vedete che ogni tipologia di giocatore pro, expert, rookie Ha un colore differente Se poi andiamo sopra un giocatore Andiamo ad esempio sopra questo attaccante tedesco Vi verranno rivelate le statistiche L'età, l'altezza Che tipologia di carta è Esperto, rookie, pro o idol Il ruolo quindi Questo è un attaccante forward Il ruolo specifico è un'ala, winger E la valutazione totale Segnata dalla sbarretta Ed ecco poi qua due carte gold idol Il centrocampista Hermes Casucci I nomi dei giocatori sono di fantasia Avere i diritti sui giocatori e le squadre Non serve assolutamente in questa tipologia di giochi E l'altro gold idol è il portiere spagnolo Ugo Falte Arriviamo ora all'ultima schermata E così abbiamo visto tutti i nostri giocatori mintati Durante tutta la fase dello sviluppo del gioco e delle leghe I campionati saranno esclusivi ragazzi E potrà partecipare soltanto chi ha acquistato dei club Quindi delle squadre nei drop programmati Inoltre il prezzo sarà molto più basso Rispetto a quello previsto al lancio del gioco Chi entra dunque in anticipo Avrà diritto a rewards ed airdrop in futuro Una cosa per chi fosse interessato Sicuramente da non sottovalutare In ogni pacchetto è garantito inoltre Un giocatore gold idol Il cui valore medio al lancio del gioco Sarà di 400 Matic Direi un prezzo di tutto rispetto Quindi per 150 Matic Ora come ora si potrà già avere una squadra completa Ad un prezzo mediamente 10 volte inferiore Andiamo ad approfondire un po' Ciò che riguarda i club Quindi le squadre Chi acquista il pacchetto di 18 NFT Avrà diritto al minting gratuito del club Questo club avrà un suo nome Colori sociali Logo E permetterà la gestione dello stadio E la partecipazione E l'accesso al gioco Insieme ai giocatori della rosa I giocatori che adesso hanno le magliette delle nazionali Avranno le magliette del club Associate ai colori ufficiali dello stesso Passiamo ora alle dinamiche di gioco Ci saranno vari campionati e leghe Con più partite simulati alla settimana Le leghe avranno più divisioni Soltanto per adesso fino a 4 divisioni per ogni lega Lo schema sarà piramidale E ci saranno 300 club in totale 20 club in divisione 1 40 in divisione 2 80 in divisione 3 E 160 nella divisione 4 Dopo il minting dei club È previsto un rilascio di un marketplace interno E anche il lancio del token Con un mercato trasferimenti Per poi costruire la propria squadra Sul sito poi è presente In prima pagina La roadmap Dove vedrete tutti i vari step Che verranno effettuati dal progetto E poi se andiamo in fondo al sito Troveremo il white paper Dove vi verrà spiegato il tutto Naturalmente ragazzi Siete invitati vivamente A fare le vostre ricerche Prima di fare qualsiasi mossa Noi siamo stati contattati dal team Per proporvi questo progetto Del quale vi avevamo parlato Già qualche tempo fa E ci sono sembrati super legit Molto simpatici e professionali Come vediamo ci sono le varie sezioni Del white paper L'introduzione I giocatori Il club Il mercato trasferimenti La sezione dedicata agli allenatori Le leghe Il gameplay La blockchain E per ultima Quella dedicata al token Questo progetto inoltre È supportato ufficialmente Sia da Polygon Studios Che da Chainlink A breve dovrebbe uscire Un comunicato ufficiale di quest'ultimo La sua tecnologia Verrà usata come integrazione Per l'assegnazione randomica Delle divisioni ai club Per quanto riguarda La prima lega Per tutti coloro Che sono incuriositi È stato da poco lanciato Il canale di Discord Del quale trovate naturalmente Il link in descrizione Così come del sito Vi ricordo ragazzi Nuovamente Che ci sarà il giveaway Trovate il link di Discord In descrizione naturalmente Così come quello del sito ufficiale E tutti quelli Che arriveranno da noi Verranno inseriti immediatamente In whitelist Avranno la priorità Di un giorno Rispetto agli altri Per mintare Dunque ragazzi Con questo è tutto Un abbraccio Prendete e ammazzate Il bottone del like Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al canale Per far parte della crew Accendete la campanellina Se volete rimanere aggiornati Alla prossima da Rick Ci si rivede sempre qui Su Hard Rock Crypto Ciao Ciao Ciao